Anche quest'anno la Biblioteca Umberto Eco della Regione Piemonte aderisce alla campagna nazionale Il Maggio dei Libri, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile. L'iniziativa si inserisce nella programmazione di Salone Off, cioè il Salone del Libro Diffuso, e consiste nel portare libri e autori fuori dai padiglioni fieristici dell'ingotto anche dopo la chiusura del Salone del Libro. A bordo di un tram storico che parte da Piazza Castello e attraversa i luoghi più suggestivi del centro cittadino, i passeggeri possono assistere alla lettura di brani di volumi editi da piccoli editori piemontesi. Per tutte le stagioni è il mio secondo libro, una raccolta di racconti che parla di sentimenti e emozioni che vanno bene per tutte le stagioni, da quando nasciamo a quando diventiamo vecchietti. Fra poco inizierà questa magnifica avventura sul tram storico, un'esperienza che mi riempie di emozione. Funky Monkey, liberi di alzare la voce, lo presenterò in qualità di lettrice per questa originale iniziativa della lettura d'alta voce sul tram, aiutati da un megafono e un romanzo ambientato in un rigido e immaginario liceo torinese.